Giuseppe Garibaldi torna al GF in una veste nuova. I dettagli Giuseppe Garibaldi è uno dei vincitori morali dell'ultima edizione del GF. Ecco con chi è tornato in buoni rapporti e con quali ex inquiline invece ha chiuso Garibaldi al centro dei rumors? Ritorno d'amicizia con Beatrice e rottura con Anita e Letizia I rapporti tra alcuni ex GFini, si sono inclinati dopo la fine del grande fratello e Garibaldi è stato al centro di vari rumors in queste settimane L'uomo si è riavvicinato molto a Beatrice Luzzi, tanto che i due si vedono in amicizia e postano diverse foto per i loro fan Sembra invece si sia rotto qualcosa tra Giuseppe ed alcune ex inquiline, come ammesso da Letizia Petris in una diretta TikTok, io sono stata una grande amica con lui Lui però è sparito, non si fa sentire mai, non risponde ai messaggi, non è venuto al mio compleanno, e ha poi aggiunto, non ho altro da dire su di lui perché penso di essere stata l'unica ad aver sempre creduto tanto in lui, nei suoi valori, nel suo modo di essere L'ho sempre tutelato, tantissimo, in casa non ci sono video riguardanti me dove io parlo in maniera brutta di Giuseppe, perché Giuseppe per me è sempre stato un grande amico Lo è E, una bravissima persona, è un bravissimo ragazzo ed è stato un grande amico, ma non ho mai capito le persone che scompaiono senza motivazioni, senza darti un perché Anche Anita Olivieri, grande amica di Giuseppe nella casa, di recente ha spiegato in un'intervista per Radio Cusano perché i rapporti con il vidello, si sono rotti una volta usciti dal reality Lui voleva uscire dalla sua situazione perché ha tanto da dare, è una persona molto pura E, stato lui a chiudere, sono rimasta scioccata E, stata una sua decisione, ognuno nella vita è libero di fare quello che vuole E la romana ha concluso con una frecciatina al calabrese, non è un santo, ha i suoi difetti, e deve lavorare su tante cose, deve capire come gestire questa pressione Sicuramente capiterà che ci rincontreremo GF 2024-2025, torna Giuseppe Garibaldi? Il nuovo ruolo Eppure Giuseppe Garibaldi, resta uno degli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello tra i più amati, e per alcuni è proprio lui il vincitore morale, assieme a Beatrice Luzzi I suoi fan e quelli dei Beabaldi, dunque, sarebbero felicissimi di vederlo tornare in tv, e forse ora si riaccende una speranza Sulla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello infatti sono apparsi alcuni video con protagonista Giuseppe in una veste del tutto nuova Quella di inviato in giro per l'Italia alla ricerca dei prossimi papabili concorrenti NIP L'annuncio del GF infatti, è chiaro, attenzione Lecce Avvistato Giuseppe Garibaldi che si aggira per le vie della città alla ricerca di nuovi volti per i casting Chissà, il prossimo concorrente a varcare la Porta Rossa potresti essere proprio tu Quale sarà la prossima tappa? Tube Continued Al vidello dunque è stato affidato un compito divertente ed importante, che è segno che il GF punta ancora su di lui E chissà che questo non sia solo il punto di partenza per un suo ritorno in pianta stabile in tv Voi che ne pensate?